buongiorno italia mercoledì 11 settembre sto aspettando un ragazzo dalla toscana che viene a prendersi il camper quindi incrociamo le dita così iniziamo a fare i lavori sul nuovo camper piccolissimo impedimento diciamo gli allestitori che mi farebbero l'impianto elettrico che sarebbe la prima cosa da fare insomma ecco è vero che è importante anche il frigo al momento sono abbastanza impegnati quindi vediamo adesso stasera richiamiamo e vediamo di capire assieme sta roba io al camper qui ho tolto tutto tranne le lenzuola fa strano vederlo così nel senso che sia sì bello carino come sempre però insomma con le presine le i mestri attaccati alla parete eccetera era un po un'altra cosa insomma da vedere sino insomma anche con tutta la roba dentro agli scaffali l'armadio quello dei vestiti con il suo cassettone il porto oggetti a muro tutte quelle cosette così dai così 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 quindi in teoria tocchiamo ferro io da oggi sarò senza esca rosso quindi sarò col pulmino da vedere adesso come fare per i parcheggi per andare a trovare la lescia più che altro e sarà un bel problema stavo pensando anche le mie zone tattiche no dove mi mettevo che c'era il mega wifi per caricare i video e neanche lì non ci sto porco cane c'è veramente perché avevo già previste ste robe c'è una che l'ho preso la ceca e adesso me ne sto pentendo me ne ho pentito ancora prima di prenderlo però così era la storia d'altronde io avevo bisogno di un determinato tipo di camper per tenermelo per sempre anche perché ho visto che la gente insomma non capisce molto il valore delle cose e quindi insomma se doppio inizio a mettersi climatizzatori mega pannelli super frigo eccetera eccetera quando lo rivendono tt ti dicono la storia del valore di mercato c'è un camper che c'ha più più molto più valore di accessori che di camper quindi niente mi serve un camper da tenere proprio per sempre perché mi sono rotto le balle il tempo e l'energia che ci ho speso sta dietro alla gente per questo mi sono guadagnato i soldi e solo per questa roba qua cazzo porca miseria è andata così un po così con tutto anche col generatore mi ricordo con surface surface alla fine mi sono rotto i coglioni ho detto me lo tengo piuttosto me lo tengo per guardarmi in film me lo appendo al muro mi guardi film dal letto cioè piuttosto che sa veramente mille euro di surface metti scendevo anche 800 ma tutto il tempo che gli sto dietro alla gente e l'energia cioè io io faccio un sito con contro cazzi con tutto il tempo che ci ho buttato a stare dietro al surface quindi capisci io veramente non ne posso più di ste robe e quindi niente surface me lo tengo e il camper quel cazzo insomma che lo cambierò certo mi è molto scomodo per carità questo un suo enormissimo difetto per i parcheggi non ha il garage proprio come lo intendevo io però va beh insomma la si vedrà con una bicicletta elettrica insomma anche perché ho visto giri lunghi come una volta i 120 chilometri in bici non ne faccio più e quindi va bene anche magari intanto una bici pieghevole normale un giorno da vedere quella elettrica perché c'è ma piaceva tanto c'è della rich bit della marca la trovi su amazon è una bici stupenda ha poca autonomia è perché effettivamente quello mi demotivizza abbastanza però cazzo è bellissima è vero che non bisognerebbe guardare l'estetica delle cose però io sono fatto così e mi è messo innamorato di quella cioè veramente stupenda quella con la colorazione rossa perché poi c'è anche arancione e nera è solo che costa 1200 bomboloni la porta troia dici vabbè ne trovi da 700 non elettriche bici pieghevoli però insomma per me sono soldini vero che al mio mezzo di trasporto ma devo ponderare molto questa scelta anche perché poi mette la userò spesso anche nel periodo invernale come scuterino no perché andrebbe anche solo con l'acceleratore sai quando fa tipo freddo e bagnato per terra non hai voglia di pedalare eccetera stai la piano 15 allora 20 allora come scuterino e vai a farti le tue cose fai la spesa e tutto quanto però insomma che ti ti ci sarà corrente anche se qua metto il mega impianto per carità oggi generatore tutto quanto però insomma sei la corrente per me che ci lavoro è una cosa preziosa adesso sul camper nuovo su pulmino la corrente inizia a essere richiesta anche da lui un po come i camper nuovi no perché si è vero al riscaldamento dell'aldea termosifoni che va a gas no anche a gas però anche se vuoi farlo andare a gas ci vuole comunque dell'elettricità perché la pompetta diciamo faccia circolare l'acqua nei termini liquido nei termini sifoni quindi anche lì insomma hai capito poi c'è la pompa dell'acqua il camper nuovo che a me piace da matti non so che razza di pompa all'acqua gli ha messo una roba mostruosa mai visto un camper con una pompa così sinceramente però giustamente consumerà ti spara l'acqua con una pressione che è più forte di quella di casa è una roba incredibile cazzo c'è il rubinetto della cucina se lo metti al massimo ti lavi la cucina è una roba pazzesca e quindi chissà quanto ciuccia anche quella poi le lampadine adesso con calma vero che è una cazzata come spesa però anche le lampadine io a led ne ho solo una quindi anche la parola del camper si si tutta led tutta led cosa a plafoniera e tutta led si ma il resto di tutte che altre luci e a petrolio ancora altro che a led allora sono le 9 44 ragazzo pariva col treno a mestre alle 10 prende l'autobus per arrivare a jesolo quindi sarà di esolo più o meno verso le 11 andrò prenderlo io in camper e dai ancora un'ora e mezza qua a grattarmi le scatole ricapitolando tutte le cose mie le ho tolte resta solo le lenzuola ok e quella collanina che sarebbe un rosario tibetano e basta la bussola gliela lascio così se si perde qua dentro sa dove trovare la strada insomma ecco se mi dispiace separarmi da scarosso oddio un po particolare beh diciamo che sempre e comunque per le dimensioni ragazzo mi dispiace quando chi ha 7 metri dice che si fa sempre che riescono a fare comunque le stesse cose non è vero niente lo guidi tranquillamente una volta abituato ti giri fai le tue cose è vero io poi anche i sensori di parcheggio l'elettrocamera tutto quanto è vero è vero per carità però ragazzo no qui parcheggi non ci siamo non ci siamo assolutamente non ci si sta cioè devi evitare un casino di situazioni comode tipo l'entrata di certi negozi eccetera eccetera quando vai a far commissioni perché io non è che c'è vacanze io ci vivo e in più ho anche scelto di avere il camper come unico mezzo di trasporto quindi di non avere la macchina perché ce ne sono tanti i full timer che hanno anche la macchina c'è una cosa intelligente voglio dire camper te lo tieni come casa e la macchina ti muovi va in giro magari anche una bella smart insomma però no io ho voluto proprio zero rottura i coglioni basta doppio bollo doppia assicurazione doppia revisione doppi italiani via via proprio assolutamente e quindi coi parcheggi è una grandissima grandissimo problema ma veramente e poi anche quando vai in giro a farti le zittarelle con scarosso hai visto mi mettevo sempre nei punti tattici in riva il mare riva il lago con i panorami eccetera eccetera con scarosso è stato confermato col viaggio in toscana che purtroppo ste robe non puoi farle oppure puoi farle poi ti becchi la multa insomma ecco perché vai fuori di due metri dalla dalle linee del parcheggio vero anche per carità il mio passo lungo questo frega tantissimo perché la serie anche se ti metti di culo non è che butti fuori chissà quanto di culo perché il passo lungo vuol dire che ha le ruote anteriori molto staccate da quelle posteriori cioè c'è molto spazio tra le ruote avanti e quelle dietro no quindi il culo del camper che di solito certi camper ce l'hanno tipo di tre metri no dopo le le cose le ruote posteriori non c'è poi beh solo al momento momentaneamente è chiaro per uno che ci vive scarosso era completamente funzionante e pronto diciamo allestito cioè un full timer che tra l'altro lavora con il computer quindi insomma le mega batterie l'inverter tutte le ciabatte tutte le sue cose tutto perfettamente funzionante autonomo e di là di là come sai non c'è neanche l'inverter quindi metti uno dice anche attacco il generatore non neanche le prese le ciabatte tutto un casino non ti dico poi cosa vuoi lavorare col generatore acceso non sarebbe impossibile no cioè solo col generatore anche perché uno che lavora col computer a parte che dopo anche i suoi cazzi il cazzeggio e i video di youtube quelle cose di ma insomma passano ore e ore insomma ecco non che sto tutta la mia vita avanti al computer però insomma ci stai tanto insomma ecco tieni conto mi fisso otto ore di lavoro al giorno faccio un esempio il computer deve stare acceso due ore ma otto ore a lavorare no otto ore in stand by quindi è così e poi ripeto sempre per il discorso che uno ci vive il frigo qui ho un signor frigo e di là non è tanto che non ho un signor frigo è che non funziona proprio io l'ho detto e lo ripeto i camper oltre i 20 anni il frigo è come non funzionasse è vero che dopo anche il padrone vecchio mi dice ma cosa dici ma funziona sì lo so che funziona ma ma a confronto di un frigo nuovo tipo quello che ho io qua un frigo da 1500 bomboloni non raffredda un cazzo c'è tutta un'altra roba è un'altra storia dai per uno vuole tenerci la verdura eccetera perché non è tanto solo il freddo ma è anche il mantenimento durante gli sbalzi di temperatura c'è dalla notte al giorno il pomeriggio che c'è il caldo eccetera eccetera quindi hai capito la roba ti va male ti fa la muffa butti via tutto questo qui era un signor frigo insomma ecco metterò un signor frigo anche di là di là c'era anche la zanzara c'era anche la predisposizione c'è proprio il compressore no per farlo quadrivalente però non funziona o è scarico o è rotto non lo so però io quello comunque ci terrei adesso vedremo con gli allestitori perché sotto dove voglio mettere il frigo io c'è il compressore e una specie di centralina che anche grossa perché una volta le facevano grosse che dovrebbe essere tipo regolatore di carica dell'impianto regolatore di carica ho visto che occhio io qua tipo quella della cb è una scatolettina piccolina quindi io tutta quella roba la metterei sotto il il letto a castello quello basso lì sotto c'è una tannica dell'acqua e la stufa dell'alde quel boiler e però spazio ce n'è insomma in mezzo quindi metterei tutto la non so per il compressore del frigo se ci starà la però insomma si vedrà di fare qualcosa presente che passa guarda dentro e quindi così ragazzi anche cosa non da poco insomma la scrivania è vero che nei camper mettono il micro tavolino perché poi diventa anche letto no però cazzo guarda che tra un tavolo di un camper normale il tavolo che mi sono fatto fare io qua su scarosso porca miseria cioè in due con le tovagliette tipo quelle americane a parte che ci stai da dio ma in mezzo c'è un bel pezzo di spazio dove metti i bicchieri le bottiglie tutto un altro vivere cazzo figurati col computer cioè lo spazio dalla tastiera a te ne hai da da appoggiare roba porca miseria puoi metterti tranquillo blocchi note sa quattro scrivere fare brigare è tutta un'altra cosa so che ti possono sembrare dettagli ma per chi queste cose le usa tutti i giorni tanto opere è un lavoro per me quello del computer le senti sta roba e le senti è vero si farà si farà adesso vedremo dopo dopo il frigo si inizieranno i lavori di fare gnameria dico dopo il perché come forse ti ho già accennato al posto il frigo vecchio voglio fare sei cassetti perché si c'è spazio enorme ma è spazio troppo alto quindi è spazio stupido aggiungerò delle mensole fra i cassetti e quindi bisogna vedere di iniziare i lavori con un legno praticamente identico a quello che c'è già in modo che quando sarà ora di fare anche la scrivania dopo dipende cash permettendo adesso vediamo quanto mi resterà e quanto chiederà il falegname magari faccio tutto un colpo solo e dovrà essere tutto uguale sennò per un pastrozzo insomma ecco il bagno praticamente già finito come hai visto manca giusto vabbè il tappettino per terra la lampada per la doccia ne ho visto una stupenda su amazon dove vedere le dimensioni se combattiano con quella che c'è su tante tante robette dai tante robette una delle prime cose in assoluto che devo mettere perché veramente ne ho sentita la necessità estrema e questo perché appunto mi ero abituato con scorosso sono i tappi per la gancio rapido dell'acqua cioè porca puttana fidati che per uno che ci vive e che carica l'acqua anche tutti i giorni ti cambiano la vita cazzo io senza quelli no perché ogni volta trovare la chiave svitare i tappi che poi i tappi sai di avvitarli non è immediato sempre quelli dei camper no e dopo infilare il tubo e trovare il buco perché hanno una specie di camera dove tu devi fare entrare il tubo della gomma giusto e se non lo fai entrare alla dimensione giusta poiché la pressione torna l'acqua fuori cioè è col mio tappo a sgancio rapido sai io clicca e basta e apri il rubinetto nient'altro insomma è tutto un altro vivere cazzo quindi quelli sì mi pare sono a 17 su amazon ho sentito altri negozi in giro mi conviene prenderli su amazon si risparmia 2 3 euro però insomma mi conviene comunque prenderli su amazon e vedremo dai adesso no ti sto raccontando tutte queste cose perché intanto passa il tempo no c'è mia passo anche a me perché sennò devo stare qua a aspettare l'altro fino alle 11 non mi passa un cazzo accidenti vabbè ti avrò già fatto un video di mezz'ora quindi intanto stop ci riaggiorniamo dopo col discorso scarosso intanto incrociamo le dita italia e se vedremo mi sono spostato il ragazzo doveva essere qui a minuti proprio quindi bene mi annoio mi annoio non passa niente porca miseria e vedi com'è la vita no ci metti tanto tempo no a farti una cosa preparartela come vuoi eccetera ci metti l'anima e dopo se ne va c'è come quando muori no alla fine se ti fai le villone di fai prendi macchinone tutte tutte appartamenti alberghi tutto quello che vuoi tanto poi quando muori ti lasci tutti qua no è stata un po' una spezia una sperimentazione no di questa cosa il passaggio all'altro camper perché qua effettivamente era una cosa molto personale questo camper cioè io sentivo proprio come una cosa mia 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 adesso pensando insomma che non ce l'avevo più e lo useranno altre persone è strano no cioè non che dia fastidio però è strano insomma ecco ecco non so se l'ho detto questo ragazzo qui andrà a fare il full timer e lavorerà quel computer con computer anche abbastanza esoso no di energia come il mio e quindi insomma gli va anche perché effettivamente sto pensando uno che vuole fare una roba del genere come come avevo fatto io insomma all'inizio è veramente veramente dura magari uno che diciamo può aver poche conoscenze no di posti dove ti fanno le robe fatte bene magari un prezzo anche onesto eccetera eccetera oppure amici che ti danno una mano come michele noti e mirko che ti fanno le cose eccetera eccetera veramente tirarsi su una roba così è impossibile insomma dai è scarosso che se ne va ripresa ripresa col telefono che ti fanno i miei Grazie a tutti. Grazie a tutti.